In caso di calamità, pericolo o in situazioni di allarme di protezione civile, i Folignati saranno allertati tempestivamente via telefono. È stato presentato oggi il sistema telematico che consentirà di inviare ai cittadini, utenti di telefonia fissa e di telefonia mobile, una comunicazione vocale in caso di pericolo. Il nuovo servizio, progetto Allerta Vocale, è stato avviato dal Comune di Foligno per comunicare con i cittadini in modo semplice e immediato. Il sistema, illustrato oggi dall'assessore Emiliano Belmonte e dal Servizio di Protezione Civile dell'ente, funziona attraverso l'utilizzo di qualsiasi dispositivo collegato ad internet, inviando un messaggio da voce registrata. Ad oggi sono 12.614 le utenze fisse di altrettanti cittadini inserite nel database per l'invio dei messaggi. È un fondamentale ed efficace strumento, ha detto Belmonte, per allertare la popolazione e il personale di servizio per eventi atmosferici, incendi e per la gestione di tante altre situazioni d'emergenza. Il progetto si basa su un sistema denominato Alert System, che prevede anche la possibilità di creare liste di utenti telefonici del Comune per raggiungere in maniera più specifica determinate zone del territorio comunale. Le liste potranno essere geolocalizzate in frazioni, vie, piazze, scuole, attività commerciali, oppure su iscrizione diretta dei cittadini che verranno informati su particolari problematiche in materia di protezione civile. Ma non è tutto, il sistema comprende l'assistenza tramite operatore nelle 24 ore permettendo agli addetti del Comune, che fossero fuori ufficio senza collegamento internet, di richiedere ed effettuare per proprio conto tutte le operazioni necessarie ad attivare il servizio. L'assessore Belmonte ha ricordato l'importanza di prevenire per rendere efficace l'intervento di protezione civile, sollecitando le diverse associazioni di volontariato nel contribuire ad una campagna di sensibilizzazione della popolazione per raccogliere il maggior numero di adesioni attraverso la comunicazione del numero di telefono cellulare. La presentazione del nuovo Alert System è stata l'occasione per annunciare l'insediamento del nuovo coordinatore della consulta delle associazioni di protezione civile, Gabriele Bibbi.